29 ottobre 2019, sono due anni che sono presidente del Parco Nord Milano. Una felicità, sono orgoglioso di questo incarico perché è una bellezza, è un piacere poter partecipare a questa esperienza del Parco Nord Milano perché il parco è amato, è amato dalle persone, dalle migliaia di persone, da quasi un milione di persone che vivono attorno ai suoi confini, lo abitano, lo frequentano. Pensate che solo nell'anno della pandemia siamo passati a 3 milioni di visitatori e visitatrici, quindi con grande soddisfazione sono presidente di questo ente grazie alla mia comunità, alla comunità del Parco Nord Milano che ringrazio per questa vicinanza, per una modalità diversa anche che abbiamo intrapreso di relazione, quindi ai comuni, ai comuni di Novate Milanese, Cormano, Bresso, Cusano Milanino, Cinisello Bassamo, Sesto San Giovanni e naturalmente Milano, oltre a città metropolitana milanese. Quindi una grande esperienza istituzionale che mi conforta e che dà lo stimolo quotidiano per lavorare al Consiglio di Amministrazione. Qua vorrei ringraziare i consiglieri e le consigliere, Giovanna Cunzio, Paola Santeramo, Gianfranco Galli, Andrea Fanzago, che collaborano con me in questa esperienza della gestione, ma non solo, tutti i dipendenti del Parco, una grande comunità appassionata che lavora al Parco e che è felice di poterlo fare, partendo dal suo direttore Riccardo Gini, che ringrazio tantissimo per questo lavoro, ma non solo, tutta l'esperienza delle GEV, della comunità che fa vigilanza, educazione e naturalmente presidia e custodisce questo Parco, all'esperienza del Servizio Civile Universale, ai volontari arancioni, ai ragazzi e alle ragazze che tutti i giorni, insomma, a cui discono questo Parco, partecipano alle varie iniziative, all'esperienza dei progetti europei, alla rete di Federparchi, di Europarchi, a cui noi siamo collegati, cioè il Parco è una grande esperienza di network, in particolare quest'anno l'adesione, anche un anno e mezzo a Forestami, un'esperienza di lavoro e di riforestazione urbana di città metropolitana, a cui noi partecipiamo con grande entusiasmo. Il futuro che ci aspetta quindi è di grande opportunità, in particolare l'allargamento, abbiamo bisogno di respirare, abbiamo bisogno di parchi urbani, abbiamo bisogno di foreste, abbiamo bisogno di agricoltura sostenibile intorno alla città, quindi il Parco Nord Milano lancia una grande idea, un grande progetto con tutti i suoi partner di allargamento dei suoi confini e di lavoro con la rete delle aree protette lombarde, che è un'esperienza unica, interessante e entusiasmante di tutela, valorizzazione e di lavoro verde. Grazie a tutti di questo grande affetto che ricevo ogni giorno facendo questa esperienza.